C'è anche il venafrano Nicandro Vizzoco dietro ai successi del Sassuolo, la squadra di calcio della provincia emiliana che con il bel gioco ha davvero conquistato tutti, diventando una delle principali protagoniste della Serie A. Invitato dal suo ex insegnante di educazione fisica, il professor Piccirillo, il preparatore atletico De Neroverdi ha incontrato gli studenti del liceo scientifico sportivo di Sernia. Ai ragazzi ha raccontato la sua esperienza nel mondo del calcio, maturata dopo aver conosciuto l'allenatore Eusebio Di Francesco. La mia esperienza è nata grazie ad un incontro con il mister Eusebio Di Francesco avvenuto diversi anni fa in Abruzzo, quando lui ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore. Una serie di fortuite coincidenze ha fatto sì che noi ci incontrassimo, che poi lui riponesse in me la fiducia nell'avermi nel suo staff. Nel frattempo il Sassuolo continua a sorprendere centrando un traguardo fino a ieri impensabile, i preliminari di Europa League. Ma questo per l'esigente Patrons Quincy non è affatto un punto di arrivo. Il Patrons Quincy chiede sempre di più, ma è giusto che sia così perché vuole trasmettere la sua mentalità, che è quello di un imprenditore ambizioso, che pretende tanto. L'emozione è sicuramente stata forte e del tutto inaspettata perché sicuramente non ci aspettiamo di riuscire addirittura a conseguire un obiettivo del genere. Non deve essere assolutamente un punto di arrivo, ma sarà sicuramente un punto di partenza. Certo sarà sicuramente un'esperienza nuova e pertanto piena di difficoltà. Però l'affronteremo, siccome abbiamo fatto anche le esperienze precedenti, con entusiasmo, con determinazione, con ambizione e anche con un pizzico di incoscienza. Per i ragazzi è stata davvero una bella esperienza, ma quello con Vizzoco è solo il primo di una serie di appuntamenti con gli atleti molisani che hanno fatto strada nel mondo dello sport. Rapportare i nostri ragazzi con personaggi del nostro territorio che hanno raggiunto livelli di eccellenza, ossia nel calcio, nella palacanestro, nelle arti marziali, in tante attività, nello sport paralimpico. Quindi ci sono tanti personaggi della nostra regione, del nostro territorio che possano testimoniare il lavoro che hanno svolto per raggiungere certi risultati. E penso che per i nostri ragazzi sia qualcosa di estremamente positivo.